Sono in pensiero per mio figlio. Sono in pensiero per mio figlio. Non lo so, non torna. Ho detto che veniva, andato un attimo in ospedale a farti vedere perché ho avuto un incidente e quindi torna tra poco con la moto dovrebbero rimettere tra poco. Tornerà tro pochissimo, no? Tornerà tro poco perché sì. Sono preoccupata, c'è un po' di vivere e non pensarci. Il telefono. Il telefono in spirale. Ah, mi sono telefonati a volo, qui nel telefono c'è il silenziatore. Un attimo c'è il silenziatore. Pronto? Sì. Come? Ah, sì, sono la madre. Eh? Eh? Ah, è venuto a fare... è venuto qui? Sì, è andato a fare... Ah. Non lo dimenticate? Ah. Non lo dimenticate? No. Non lo dimenticate? Ah. 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 Nooo! Non lo dimenticate? Era stato venuto per spalle, era andato all'ospitale solo per spalle che lei, degli analisi, no, no, è morto, no, 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 no. Non può essere, non può essere, no, no, non può essere. no no mio 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 no la stado la stado la stado la stado no 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 escapò no che respiro no no che va a sentire no 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 ah ah no 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 Oh, oddio, no, bastate, me l'ho messa giù, giù, no, dimenticherò, lo giuro, è che un po' loro si è fatto uccidarsi con lo moto, sì, c'è io, devo riprendere, devo fare di forza, no Sì, no, mi venticherò, mi ucciderò da maduro, non veloce, ma cosa che faccio? Sì, non vuole che andare in giro, altrimenti rischio di incazzire. Dopotutto, domani è un altro giorno. Sì, no, Sì, no, Sì, no!